Carissimi fratelli e sorelle, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E questa comunione dell'Italia è in ciascuno di coloro che aprono il cuore con la fede a Gesù, Signore e Salvatore. Nel cuore di Gesù Dio ha rivelato tutta la sua realtà, tutta la sua natura e ci comunica il suo amore, il suo Santo Spirito. Per questo la Chiesa in questi giorni, su sollecitudine di Gesù stesso, Santa Margherita Maria la Cocca, ci presenta la solennità del Sacro Cuore di Gesù, che nei decenni passati aveva una grande risonanza nella Chiesa ed era l'anima di tanta devozione e di tanta spiritualità. Oggi il Signore continua a offrire questo cuore d'amore, ecco col cuore che ha tanto amato il mondo, dice a Santa Margherita Maria la Cocca, ecco col cuore che ha tanto amato il mondo, ma che non riceve che ingratitudini e offese. E Santa Maria Maddalena dei Pazzi a suo tempo nel 500 diceva, l'amore non è amato, venite ad amare l'amore, venite gente ad amare l'amore, lasciatevi amare dall'amore. E la storia sacra, fratelli, ci porta avanti una storia altalenante tra peccato e conversione, peccato e conversione. E anche in Gerusalemme a suo tempo arrivò ad essere distrutta totalmente, il Tempio bruciato, la popolazione deportata. Abbiamo visto nella prima lettura della celebrazione eucaristica di ieri la storia del re Ezechia che si affidò al Signore e fu salvato dalla distruzione Grazie a un intervento del Signore che colpì l'esercito a Siro, per cui Sennacarib, il sovrano a Siro che assodiava Gerusalemme, dovette fuggire, tornare in patria, dove poi fu assassinato dai suoi figli. Ma morte Ezechia, che era un re gelante per il Signore, il figlio suo manasse, non seguì la via del padre, anzi fece esattamente l'opposto. Si divertì a introdurre nel Tempio di Gerusalemme tante divinità perverse o scene e a introdurre in mezzo al popolo azioni, attività, non conforme alla legge di Dio, tante che la scrittura dice che faceva scorrere il sangue da tutte le parti per la violenza, la cattiveria e induceva il popolo a praticare l'idolatria, a camminare per vie perverse. Regnò parecchi anni, più di quarant'anni fu il suo regno e il figlio suo Amon continuò le opere perverse del padre, ma morto lui fu eletto re, il figlio suo, Giosia, che aveva soltanto otto anni. Questo ragazzo si aprì a Dio e voleva riformare tutto il popolo e ricondurla alla legge di Dio. Legge però che non era conosciuta tante, che i libri sacri erano stati banditi e non si conoscevano. Il re Giosia indisse una colletta in mezzo al popolo perché il popolo offrisse aiuti per restaurare il Tempio, che era stato lasciato in abbandono, era stato danneggiato, profanato in tanti modi. Lui ripulì il Tempio di tutte le immagini pagane, riordinò i culti perché fossero santi e impose alla popolazione di camminare per la via di Dio. E un bel giorno, mentre si operavano questi restauri, un sacerdote scoprì il libro della legge e lo presentò a uno scriba che a sua volta andò dal re Giosia e gli fece vedere come esisteva una legge di Dio scritta, ma che il popolo non conosceva, neanche i sacerdoti stessi del Tempio conoscevano. Il re disse, per questo ci stanno succedendo tutte queste disgrazie, ci siamo allontanati dalla legge di Dio, ci siamo allontanati dalla strada che il Signore ci ha indicata. Allora volle restaurare nel suo regno la rettitudine morale e spirituale e mandò a consultare delle persone ispirate, tra cui una donna molto profonda nelle rivelazioni del Signore. Questa donna però mandò un messaggio al re Giosia, dicendogli che il popolo subiva le sue riforme, ma non cambiava cuore, per cui lui avrebbe consegnato Gerusalemme ai suoi nemici. Gerusalemme sarebbe stata distrutta, però disse al re, tu non vedrai questo, perché tu dirai ai tuoi padri prima che ciò avvenga, ma sotto il regno di tuo figlio questo avverrà. E infatti così avvenne morto il re Giosia, che non aveva neanche 40 anni, e lui fu succeduto dal figlio Ioachim, che riprese le vie degli antenati, portando Gerusalemme alla perversione, fino a che arrivarono i babilonesi, e nel 606 avanti Cristo, Gerusalemme fu occupata dai babilonesi. Ioachim è deportato in Babilonia, accecato e mese sul trono un altro re, Sedecia, al posto di Ioachim. E questo Sedecia, per qualche anno, si tenne sottomesso ai babilonesi, pagando il tributo, come era richiesto, ma poi si allontanò, si ribellò, fino a che avvenne la distruzione di Gerusalemme. Vedete, questo re scopre la legge di Dio. Scopre la legge di Dio. Ai nostri giorni sembra strano, fratelli, ma dobbiamo riscoprire la legge di Dio, perché in nome della scienza, in nome della cultura, in nome del progresso, in nome della tecnologia, la legge di Dio è profanata. La legge di Dio non è riconosciuta. Tante si meravigliano quando si parla, per esempio, del matrimonio, come il Signore indica una strada di santità, una strada di comunione, di perfezione ed amore. Eppure, queste cose sono scritte, sono nella legge di Dio, ma quanti conoscono questa realtà? Oggi più che mai sentiamo il bisogno di tornare al Signore, perché la Sua salvezza vuole invadere tutta la terra. All'invito del Signore, non semplicemente a praticare delle norme, ma al cambiare cuore, aprirgli la vita nel profondo dell'anima. Ricordate le parole dette del Signore al popolo per mezzo del profeta Esaia, «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me». Il Signore oggi sta toccando tanti cuori, ma vuole che l'umanità intera si apra alla Sua grazia, che l'umanità intera si lascia a rinnovare da questa legge, la legge dell'amore, da quell'amore che Gesù ha dato sulla croce. Dio non vuole un'osservanza passiva di regole e di norme, vuole che viviamo secondo il suo spirito d'amore, cuore divino di Gesù. Oggi noi ci rivolgiamo a Te. Tu, Signore Gesù, hai voluto rivelare alla Chiesa le profondità dell'amore del Tuo cuore, manifestando questo cuore ardente di carità, di passione, per la salvezza di tutte le creature, per la salvezza di ogni uomo su questa terra. Signore Gesù, noi invochiamo questo amore. Tu ci hai aperto e spalancato questo cuore, e attraverso Santa Faustina Govarska ci hai rivelato la grandezza della Tua misericordia, incurcando in noi il bisogno di abbandonarci alla Tua comprensione, alla Tua compassione, al Tuo perdono, di lasciarci permeare totalmente anima e corpo dal Tuo amore misericordioso. Signore, manda il Tuo Spirito e tutto sarà ricreato, rinnoverai la faccia della terra. Ascolta il grido che nel cuore di tanti che gridano a Te, tanti oggi anche cristiani che frequentano la Chiesa, si vergognano a manifestare di essere Tuoi. Signore, non guardare le nostre debolezze, guarda quella fornace ardente che arde nel Tuo cuore, e riversa su questa terra quel fuoco che consume il peccato, che guarisce le ferite, rinnova le menti e risana i cuori. A Te sia lode, gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, che sei sempre presente in mezzo alla Chiesa, come madre amorosa, sempre pronto a suggerire la strada della salvezza, a inculcare nei Tuoi figli la fiducia nel Figlio tuo Gesù Cristo, dona oggi a tutta la Chiesa di lasciarsi infervorare da questa famma d'amore che sono nel cuore di Gesù e di vivere non più con la propria ragione, ma guidata dallo Spirito Santo, infiammata dal cuore divino di Gesù, che vuole la salvezza di tutti e opera la salvezza di tutti. A Lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la gioia del cuore di Gesù, fratelli, non di vostri cuori, l'infiammi di amore per Te. E conduca tutti ad obbedire alla Tua parola, a praticare, non la legge, a praticare lo Spirito d'amore. Amen.